aggiornamento energetico del consiglio di luce pleiadiano siriano arturiano di asara adams telos channel traduzione e voce aura quinta dimensione letture siamo qui ora ti vogliamo bene siamo voi dal vostro futuro per assistervi nel vostro percorso mentre stai attraversando la tua incarnazione sul tuo pianeta è importante ricordare perché sei venuto qui siete venuti qui per portare avanti la luce divina e per creare il paradiso sulla terra questo non implica sollevare il velo in modo pesante per portare avanti la luce divina tutto ciò che serve è richiamare la luce divina della tua presenza io sono e gli aiutanti delle tue famiglie galattiche di luce l'ostia ascesa l'ostia angelica telos gli elohim e poi chiedi loro di avvolgere il tuo pianeta con esso richiamali tutte le volte che puoi durante la giornata e prima di andare a dormire il 60 per cento di tutta la luce che stai invocando ritorna a te nella tua stessa vita ed è un supporto importante per il tuo processo di ascensione mentre stai invocando la luce divina è imperativo dirigere le tue energie la concentrazione e l'attenzione su tutto ciò che è di una vibrazione superiore invece che su tutte le cose che sono sbagliate nella tua vita e nel mondo ogni giorno hai una quantità di energia vitale dalla tua presenza io sono che hai a tua disposizione puoi scegliere a cosa dare vita con questa energia attraverso la tua attenzione e concentrazione se desideri creare il paradiso sulla terra e nella tua stessa vita concentrati solo su ciò che è in linea con questa visione non puoi concentrarti su tutte le esperienze e circostanze indesiderate e aspettarti di avere la realtà opposta nella tua vita quindi se desideri adempiere al minimo del tuo proposito divino fai semplicemente queste due cose di qui sopra su base coerente ogni giorno e per quanto puoi quindi guarda la tua vita e il tuo mondo trasformarsi stiamo aspettando la tua chiamata di luce divina e siamo solo ad un pensiero a un decreto lontano da te portiamo con voi la visione della divina nuova terra e dal nostro punto di osservazione è gloriosa siamo con te ad ogni passo sei amato oltre misura siamo con te sempre ti vogliamo bene grazie